Ed ora il Papa all'Angelus richiama i cristiani alla coerenza del Vangelo e mette in guardia da chi si affida a indovini e cartomanti cedendo alla superstizione. Enzo Romeo. La coerenza non è un optional, specie per chi si dice cristiano. Francesco lo rammenta ai fedeli che sfidano il sole di piazza San Pietro. Vita cristiana e compromessi di ogni genere, pratiche religiose e atteggiamento contro il prossimo. Ciò vale per il rispetto dei grandi valori come quello della carità. La carità aperta a tutti con la preferenza per i più poveri e gli esclusi. Ma la coerenza va dimostrata anche nei piccoli gesti, ad esempio evitando di cadere in forme di superstizione, affidandosi a quelli che il Papa argentino chiama gli indovinatori. Quanti, quanti, sedicenti cristiani vanno dall'indovinatore, dall'indovinatrice a farsi leggere le mani. E questa è superstizione, non è di Dio.